Dignità di prostituzione sarà un scenario di Piazza Duomo, ma infatti già esiste una delibera di spostamento di tutte le superlettere commerciali. Quindi ci sarà uno spazio libero e una manifestazione molto importante. Lo spettacolo merita, merita perché è già stato fatto al Festival di Casa Marciano. Sarà di nuovo la sede della piazza dal 5 all'11 settembre. Durante il Festival di Casa Marciano. Una situazione che non permette a Casa Marciano di dare spazio al Festival. E Piazza Duomo avrà la sua casa di prostituzione. Non si sa se la manifestazione sarà tutta in piazza o sarà parte in piazza e parte nelle stanze del comune. dove i protagonisti insieme agli spettatori contratteranno le loro prestazioni. Uno spettacolo che poteva certamente non creare tanta attesa e tante dicerie. solo di uno spettacolo che merita e sicuramente potrà essere appunto un spettacolo. spettacolo a cantare. Anche le attività commerciali che una delibera invita a smontare per quel periodo. e dar vita è oggetto di polemica sia per le piazze che per le piazze. e che per le piazze che per le piazze.